Salve a tutti amici di Intreminuti.it, oggi per la rubrica cinema ho intenzione di presentarvi un film molto leggero, una bella commedia del 2009, diretto da il regista Ken Fuapis. Ebbene, il film è la verità e che non gli piace abbastanza. Sebbene sia un film che la stampa ha annoverato nel genere da pollastrelle, in realtà io credo che tra i vari film che si occupano di cliché sentimentali, sia un film che riesce a dare un tocco molto simpatico a questi vari intrighi di coppia. Ed ecco che nove personaggi in cerca di amore, tra primi appuntamenti, abbandoni, sogni, chiacchiere, telefonate e adulteri, si ritrovano questa volta a cercare anche di illuminarsi a vicenda, e cioè un uomo cerca di illuminare una donna. In questo caso Gigi, uno dei personaggi, riesce finalmente a capire come se a un certo punto le avessero svelato o come si tolgono i prosciutti davanti agli occhi. Ecco, io credo che è un film che va visto anche perché certe volte noi donne abbiamo bisogno anche di sentirci ripetere determinate cose. Mi piacerebbe proprio riportare una piccola frase Tu non sei l'eccezione, tu sei la regola. E la regola dice che se un uomo non ti chiama è perché non vuole chiamarti. Se ti tratta come se non gliene fregasse nulla è perché non gliene frega nulla. Se ti tradisce è perché non gli piace abbastanza. Non esistono uomini spaventati, confusi, disillusi. Non esistono uomini tragicamente segnati dalle passate esperienze bisognosi di aiuto, bisognosi di tempo, bisognosi d'amore. Gli uomini si dividono in due categorie. Soltanto quelli che ti vogliono e quelli che non ti vogliono. Tutto il resto è una scusa.